Questo video riguarda i migliori tre termoventilatore. Il vincitore della qualità è il DeLonghi HF 1030C. Grazie alla ventola silenziosa e dalla forza riscaldante il calore si espanderà in un attimo nell'ambiente in cui lo posizioni per regalarti attimi di piacevole calore e tranquillità, per ambienti fino a 55 metri cubi. Termoventilatore con due livelli di potenza 1800W e 900W, riscaldati senza preoccuparti dei consumi, il prodotto è testato per riscaldare tanto e consumare poco, regala un tocco di comfort in più alla tua casa grazie all'efficiente termoventilatore DeLonghi. La tecnologia ceramica bilancia potenza ed efficienza energetica mediante autoregolazione, regolando la potenza in uscita in base alla temperatura della stanza, e dotata di un'ampia resistenza. Che si attiva quando la temperatura scende sotto i 5 gradi centigradi. Il termoventilatore ha la ottima sicurezza, dotato di dispositivo termico di sicurezza, luce di posizione, ventilazione estiva. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il ProBrezze termoventilatore. Termoventilatore a basso consumo possiede due livelli di potenza 1200W, basso, e 2000W, alto, 220-240W, 50 Hz. Questa stufa elettrica in ceramica possiede un'oscillazione automatica di 60 gradi che si può impostare con le due velocità. Grazie ad un termostato regolabile integrato potrai monitorare la temperatura intorno a te per un riscaldamento ottimale. Inoltre, possiede un design compatto che lo rende facile da usare, trasportare e ripore. Questo termoventilatore in ceramica utilizza dischi di riscaldamento in ceramica. Il riscaldamento in ceramica fornisce un metodo di riscaldamento più veloce, sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai tradizionali a ventola. Il vincitore del premio è il DeLonghi H5 a 3220. Grazie alla ventola silenziosa e dalla forza riscaldante il calore si espanderà in un attimo nell'ambiente in cui lo posizioni per regalarti attimi di piacevole calore e tranquillità. Il termoventilatore con potenza 1000-2000 Watt, riscaldati grazie ai due livelli regolabili fino a 2000 W senza preoccuparti dei consumi, il prodotto è testato per riscaldare tanto e consumare poco. Dotato di due manopole, una è il termostato regolabile per impostare la temperatura desiderata e l'altra è la velocità di ventilazione. Per ambienti fino a 60 metri cubi. Grazie alla protezione IP21 contro il gocciolamento verticale dell'acqua può essere utilizzata in condizioni di sicurezza anche in bagno e lavanderia. Il termoventilatore garantisce l'ottima sicurezza, dotato di dispositivo termico di sicurezza e protezione antigelo. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.